Il fumo denso era visibile anche dalle città vicine. È stato un pomeriggio di fuoco e paura quello vissuto ieri a Sarno dove un incendio è interessato il cortile di un'azienda che si occupa del trattamento del commercio di rottami ferrosi e non in via Ingegno nella zona industriale. L'incendio si è sviluppato nello specifico in un'area di stoccaggio e ha coinvolto rifiuti metallici in cumuli. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i volontari e la polizia locale da chiarire e stabilire le cause scatenanti l'incendio. L'ARPAC di Salerno ha avviato il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona interessata dall'evento con due dispositivi, uno per la determinazione di polveri sottili e metalli pesanti, l'altro per la determinazione delle diossine e dei furani. Il sindaco Giuseppe Canfora ha ordinato in via precauzionale ieri subito a tutta la popolazione residente nel perimetro di due chilometri dall'opificio industriale dove si è sviluppato l'incendio la disattivazione degli impianti di areazione o di condizionamento, la chiusura degli infissi esterni, finestre e balconi degli immobili. Il divieto del consumo e della vendita di frutta e ortaggi raccolti in seguito all'incendio nella zona compresa entro il raggio di due chilometri, il divieto di attingere alle risorse idriche per fini alimentari da vasche e pozzi non protetti, il divieto di pascolo, il tutto fino al revoca dell'ordinanza.